Dai comunicati poco chiari della Sidigas che dicono tutto e non dicono niente si è passati a quello del tifo organizzato che oltre ad invitare gli imprenditori irpini e non a salvare la scandone hanno specificato che in fondo la cosa più importante è non perdere né denominazione né numero di affiliazione perché tanto sia serie A o serie B la squadra sarà seguita. Quando e se verranno fuori acquirenti per il basket lo sapremo a breve di certo in meno di una settimana non potrà arrivare nessun salvatore della patria né il club potrà essere ceduto in questi giorni. Siccome per cedere le quote si dovrà aspettare obbligatoriamente il 12 quando ci sarà l'udienza per fallimentare e si capirà cosa vorrà fare De Cesare sarà la Sidigas a dover iscrivere la scandone ad un campionato. La proprietà di fatto non ha specificato nel comunicato a quale competizione parteciperà ma non è ormai un mistero sarà serie B al 90% serie A bye bye si partirà dal basso sempre gestiti da casa Sidigas che terrà viva una società da Deadman Walking. Crederei miracoli sarebbe bello ma per salvare il club non basterebbe neanche un emiro il 9 ne sapremo di più o forse avremo la conferma di quanto stiamo dicendo. Per ora continua la pantomima qualcosa potrebbe anticipare Giannino Petrucci presidente FIP atteso tra i VIP del pala del Mauro in occasione della partita della nazionale per le universiadi. Vedremo se il numero 1 del basket si sbilancerà o resterà in un silenzio da interpretare.